Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, 2 km di coda per veicolo in avaria tra BV1 Variante e Calenzano in direzione Firenze, sullo stesso tratto in carreggiata opposta rallentamenti per traffico. Ci spostiamo sulla Firenze Mar dove troviamo coda per traffico tra Firenze Ovest e Prato Oest nella carreggiata verso Pisa. In Fipili per lavori restano code di un chilometro verso Firenze tra Empoli e Montelupo in carreggiata opposta tra Ginestra e Montelupo e ricordiamo che si tratta di interventi per il miglioramento della sicurezza, percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Prima di salutarci informiamo che a Firenze fino al 14 novembre per lavori per la realizzazione della pista ciclabile Lungarno Vespucci è in vigore un senso unico nel tratto Piazza Ogni Santi-Piazza Goldoni verso Piazza Goldoni dove saranno in vigore anche divieti di sosta. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!